Carissimi amici siamo tornati qui, siamo da un Muevete a Faenza, questa due giorni grande di musica e ballo e sono qui con Anna Ricciardi, un'altra grande amica. Ciao cara. Ciao. Allora Anna Ricciardi che viene addirittura da Cento Ferrara, ovviamente ballerina che qui presenterà uno stage di Baciata Lady Style. Mi piacciono questi nomi, sto imparando un sacco di cose. Che cosa vuol dire in realtà? Altro non è che una sequenza di passi dedicata maggiormente alle donne, quindi dove si va a curare magari il movimento delle braccia, la femminilità, la sensualità, applicato in questo caso alla Baciata. Allora io so che Anna non è una ballerina da tanto tempo, vero? No, non sono tanti anni, non nasco ballerina, non ho studiato da piccola, mi sono appassionata da grande, ero già mamma quando ho iniziato a fare i corsi di ballo, portavo la mia piccola con me, è diventata una passione sempre più grande, ho iniziato a studiare in maniera sempre più approfondita con artisti che mi piacevano fino a diventare insegnante assieme a uno dei miei maestri che è un artista cubano che ovviamente io apprezzo soprattutto perché è il mio maestro e con lui tengo i corsi di ballo a Cento ed è Chichi Aguero. Allora, Anna è un piacere averla qui perché è una testimonianza vivente di quello che vi dico sempre io, ballare fa bene, è sano e potete iniziare a qualsiasi età, giusto Anna? Assolutamente, assolutamente, non c'è impegno che possa impedirlo, non c'è età, non c'è nessuno. E guardate che meraviglioso sorriso che ha Anna, quindi diventate tutti come lei. Anna, qualche social se volessero seguirti? Allora, al momento non abbiamo una pagina social dedicata prettamente alla scuola, abbiamo i nostri profili, Anna Ricciardi o Chichi Aguero sia su Facebook che su Instagram. Perfetto, allora io ringrazio tanto Anna di essere stata con noi, la lascio andare perché anche lei sta correndo fra nostalgia e l'altro e buon muovete! Grazie mille, grazie!